Tutto è filato liscio all'Assemblea dei Soci della Teramo Ambiente e la partecipata che gestisce lo smaltimento dei rifiuti urbani per il Comune di Teramo. Approvato dunque il bilancio 2019 e senza contestazioni di rilievo, a differenza dello scorso anno, quando il Sindaco d'Alberto rimproverò pubblicamente alla società gli alti e ingiustificati costi di gestione. È un bilancio che però vede una riduzione del fatturato legata alla perdita della commessa di Termoli, ma anche una diminuzione positiva di quei famosi costi di gestione. La società dunque avrebbe recepito appieno le indicazioni dell'amministrazione comunale che chiedeva un'inversione di tendenza e il contenimento delle spese. Per il Sindaco Gianguido d'Alberto si tratta di un bilancio di transizione nel vero senso del termine perché gran parte degli amministratori sono entrati in carica nel corso dell'anno con la costituzione della nuova governance e poi perché l'esercizio 2019 per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione comunale è il primo anno intero di gestione amministrativa. Tuttavia la situazione attuale continua ad essere per nulla facile. L'affidamento tra il comune di Teramo e la Team è scaduto dal 2010 e il senso di precarietà si avverte. La strada individuata dall'amministrazione comunale è quella della gara a doppio oggetto, l'unica che, se la Team rimarrà una società a carattere misto, garantirebbe una prospettiva futura. Non abbiamo alimentato una politica di assunzioni scriteriata appartenuta al passato, chiosa il sindaco d'Alberto, abbiamo avviato una piccola rivoluzione della gestione della raccolta urbana apprezzata dalla regione Abruzzo, che guarda con grande interesse all'attività della Teramo Ambiente. Intanto durante l'assemblea dei soci sono anche cambiati i vertici della compagine privata. Il socio privato Stefano Gavioli sostituirà come a di l'attuale amministratore delegato Enrico Prandin. Ciò relato anche Google Schifo. Ciò dullare del cartello con la campione. Ciò pianifici. Mi ricco.